Un'assemblea pubblica sulla vertenza che riguarda i lavoratori della Ball Corporation di San Martino della Marruccina è stata convocata per il prossimo 24 novembre a Chieti dal presidente della provincia Mario Pupillo dopo che l'azienda ieri ha comunicato lo stop della produzione e nelle scorse settimane ha avviato la procedura di licenziamento per tutti i 70 lavoratori dello stabilimento abruzzese. Sulla vicenda si pronuncia il presidente vicario della regione Giovanni Loli che ritiene inaccettabile l'intenzione dei vertici dell'azienda di chiudere i battenti rifiutandosi di utilizzare gli ammortizzatori sociali. Hanno rifiutato, continuano a rifiutare, di utilizzare gli strumenti di ammortizzatore sociale ce n'è uno che è nuovo, che sembra fatto apposta per le aziende, per consentire la reindustrializzazione un anno di cassa, non lo stanno facendo, hanno dato già vita alla procedura di licenziamento che dura 45 giorni e scade, io non so se l'hanno fatto apposta, ma se non se ne sono accorti è quasi peggio che se l'hanno fatto apposta, la data scade il 25 di dicembre, quindi il giorno di Natale questi lavoratori staranno in mezzo a una strada di Elianzi. Scusate, è stata chiusa l'attività produttiva in questo stabilimento, nonostante il tavolo ministeriale si fossero impegnati nei sette giorni che ancora non sono scaduti a provare a fare qualche proposta alternativa. Io voglio chiamare qui la stampa nazionale quella più scandalistica, la strisce alla notizia perché non si è mai vista una cosa di questo genere, che tu chiudi un'azienda produttiva e la chiudi il giorno di Natale rifiutandoti di fare qualunque proposta ragionevole alternativa che noi abbiamo fatto, compreso quello minimo che ha fatto Honeywell, cioè di mettere a disposizione lo stabilimento perché noi ci possiamo fare carico di trovare una reindustrializzazione, neanche questo. Grazie. Grazie.